...quante regate nel sud dell'Inghilterra. Tra i suoi proprietari, pensate, figura anche Mr. Mullins, l'inventore del congegno per arrotolare le sigarette e futuro armatore del 33 metri Blue Leopard del 1963. Nel 1999 viene acquistata da Matthew Berker, che nel 2005 l'ha fatta partecipare a tutte le regate militerranee cui era possibile iscriversi. Ed ecco la mia bandiera e la rissata della bandiera.